Veniamo a Padova perché si spaccia bene, arrivavano dalla Tunisia diretti nella città del Santo perché sapevano di poter far fortuna vendendo droga, bastava appartenere ad un gruppo. Due anni di indagini per ricostruire e smantellare quattro bande di nordafricani che si erano divisi Padova e il suo fiorente mercato della cocaina. C'era la banda dell'Arcella, quella di Altichiero e quelle di Limena e Campo San Piero. Erano in forte competizione tra loro, bande che spacciavano cocaina con un principio attivo molto elevato, quasi il 97%, e che talvolta per aumentarne gli effetti eccitanti tagliavano anche con una sostanza vermicida, il levamisolo, che è un vasodilatatore. 27 le persone arrestate, per lo più magrebini, ma ci sono anche tre donne che facevano da intermediarie. Un romanzo criminale, lo ha definito il capo della squadra mobile Marco Calì. Le bande cercavano di accalappiarsi i più clienti possibili, dall'artigiano alla escort, dall'avvocato allo studente minorenne. Tutti disposti a pagare 100, anche 150 euro per acquistare una dose di cocaina purissima, tagliata con un potente vermicida, sostanza chimica e tossica usata in veterinaria. Le bande avevano un'organizzazione gerarchica e i capi tenevano i contatti con i fornitori a Milano. C'erano altri soggetti con ruoli ben determinati, il centralinista, cioè colui che aveva i contatti con gli acquirenti, colui che è il cassiere, cioè incassava i soldi della cocaina e poi lo spacciatore al dettaglio, colui che portava materialmente la droga agli acquirenti. Un giro d'affari vasto, ogni banda smerciava oltre mezzo chilo di cocaina a settimana e per questo non esitava a farsi la guerra. Una volta gli spacciatori si sono picchiati a sangue in via Spetti. Grazie a tutti.